A poco meno di 20 giorni dalla ripresa delle scuole, le certezze sono ancora ben poche. Per questo, studenti e CGL torneranno in piazza con un nuovo flash mob. Vogliamo certezze, affermano tante ancora le incognite a partire da chi ha i bambini che devono frequentare gli asilini delle materne, perplessità negli studenti, nei maestri, nei professori. Tutti si chiedono se e come la scuola riuscirà a ripartire, quali saranno le modalità, se i lavori annunciati basteranno o saranno finiti in tempo. Un buco nero riguarda poi anche e soprattutto il trasporto pubblico. Tant'è vero che la stessa Regione Toscana ha scritto al Governo insieme all'Unione delle Province per far presente che in questa condizione i mezzi a disposizione non basteranno per portare a scuola tutti gli studenti. I problemi maggiori poi da risolvere saranno soprattutto nelle scuole superiori. Sono proprio queste le motivazioni che hanno spinto la Federazione degli Studenti della provincia di Arezzo a indire una nuova manifestazione organizzata in collaborazione con la CGL e i ragazzi di Friday Air for Future. Sarà un flash mob e si terrà il prossimo 31 di agosto alle 17.30 in Piazza della Libertà, di fronte ai due palazzi, quello della provincia di Arezzo e quello del Comune.